Il brand di Metal Gear Solid ha rappresentato una vera e propria pietra miliare del panorama videoludico. Da parecchio tempo i fan si sentono ventilare la possibilità di un rifacimento totale del primo capitolo della saga di Snake e compagni. Ma senza mai vedere seguire un annuncio ufficiale da parte di Konami, al momento dedicata sul remake di Silent Hill 2. Ebbene, qualcosa sembra finalmente muoversi in queste ore. Quinton Flynn, doppiatore di Raiden all'interno della saga, ha infatti lanciato il proverbiale Fulmine a ciel sereno, confermando che qualche annuncio relativo al franchise potrebbe essere reso noto a breve. Mediante un post su Twitter, l'attore ha risposto ad un utente che chiedeva all'Umi in merito con una frase che lascia poco spazio all'interpretazione. Rimanete sintonizzati per gli annunci che arriveranno nelle prossime settimane. Ovviamente, null'altro è stato reso noto in merito al progetto, che stanno vedendo la loro lavorazione dietro le quinte. Che dire, gli appassionati di Metal Gear Solid hanno che essere esperanzosi. Voi cosa ne pensate? Volete il remake di Metal Gear Solid? Scrivetecelo nei commenti. Intanto vi invito a seguirci sui social. Al prossimo video!